A poco più di un mese dal terremoto giudiziario a Palazzo di Città Salerno che l'11 ottobre scorso ha aperto un ampio capitolo di indagini sui rapporti tra le cooperative e l'amministrazione comunale di Salerno, ieri mattina gli uomini della squadra mobile della questura di Salerno hanno nuovamente fatto il loro ingresso al comune di via Roma per notificare 5 avvisi di conclusione delle indagini ad altrettante persone. La procura della Repubblica di Salerno ha comunicato alle persone indagate l'attività investigativa a loro carico che si è conclusa e si avvia così il processo penale. Gli atti sono stati notificati all'ex assessore all'annone al commercio del comune di Salerno Dario Loffredo, all'ex dirigente comunale Alberto Di Lorenzo, agli imprenditori Michele Fiore e Francesco Ferrara, rappresentanti della società che si ha giudicata negli anni passati l'allestimento dei mercatini natalizi sul lungomare di Salerno e a Daniello Pietrofesa, presidente dell'Associazione degli Ambulanti AMBA Confesercenti. L'accusa ipotizzata dalla Procura della Repubblica di Salerno per tutti gli indagati è di concorso in turbativa d'asta. Gli investigatori in pratica hanno puntato la lente sugli appalti affidati per l'organizzazione dei mercatini di Natale sul lungomare in concomitanza con l'evento Lucida Artista nel periodo delle festività dell'anno 2016. Dopo il filone relativo agli appalti concessi alle cooperative sociali, nel quale risultano indagati anche il governatore Vincenzo De Luca, il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il consigliere regionale Nino Savastano ai domiciliari, si aggiunge un nuovo capitolo giudiziario relativo agli affidamenti del comune di Salerno. Indagini che creano nuove turbolenze a Palazzo di Città. A pochi giorni dal primo consiglio comunale, dove proprio Dario Loffredo, ex assessore comunale al commercio, risultato nell'ultima tornata elettorale il primo degli eletti nella lista dei progressisti con circa 1800 voti, sarebbe prossimo alla nomina presidente del consiglio comunale. La società Buongiorno Italia era già finita al centro di un'altra inchiesta anche nella città di Torino e sempre per fatti inerenti gli allestimenti natalizi. Con l'apertura di un nuovo capitolo anche per l'affidamento dei mercatini di Natale sul lungomare di Salerno, ora non si esclude anche che possano esserci altri sviluppi legati anche al villaggio di Babbo Natale allestito al parco Salid del vicino parco Pinocchio.